Noi chiediamo una cosa al Presidente Bolognese perché fino a due mesi fa aveva il vanto di dire che noi siamo l'etica, noi non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo salvaguardiato il posto di lavoro. Dopo due mesi tutto è cambiato, non si capisce perché. Gli ammortizzatori sociali da chiedere ancora ci sono, ad aprile ci chiederemo ancora dell'altra solidarietà e probabilmente speriamo che ce la diano. In caso contrario tutti noi lavoratori siamo d'accordo di lavorare meno ma lavorare tutti, perché quello che hanno l'impatto maggiore siamo noi, perché siamo noi quelli che prenderemo molto molto meno, anche perché in cooperativa ci sono delle persone ancora sotto qualificate che hanno due mansioni e che non hanno più magari moglie o marito che lavorano e hanno dei figli da mantenere. Per cui non è facile così svegliarsi da un giorno all'altro e dire no, ad aprile adesso lasciamo a casa 540 persone. Non si può, perché è vero che loro magari sanno cosa vuol dire ma a livello di numeri, noi siamo delle persone, abbiamo bisogno anche comunque di andare avanti. Per cui visto che siamo noi che perdiamo comunque ancora di più se ci abbassa ancora lo stipendio, noi siamo d'accordo tutti così, purché si salvaguardi il posto di lavoro di tutti. Quindi chiediamo a Bolognesi di fare un salto indietro, di riconsiderare quello che ha detto, di continuare ad avere il bando di questo motto. Lui va davanti con questo motto e noi ne faremo la bandiera, però non si può lasciare a casa una persona, non così.